buongiorno a tutti sono qui con davis che è stato ossionato da h2 tre anni fa e ora si presenta con questa cicatrice di trenta e noi ora vediamo grazie a Vanetta abbiamo potuto oggi farlo vorrei che tutti quanto ci aiuti a fare aiutare la gente come questo grazie mille